Come sarà il mercato immobiliare nei prossimi sei mesi per chi vuole fare trading? E quali saranno le armi vincenti da utilizzare? Sono Alessandro Perilli ed opero dal 2010 all'interno del mercato delle aste giudiziare, aiutando gli imprenditori, i libri professionisti a comprare a sconto beni immobili e beni immobili e aiutando le persone a cancellare la propria massa debitoria con le banche. Se siete curiosi e vi interessano questi argomenti, iscrivetevi al canale e lasciate dei commenti qui sotto il video. Se poi volete essere aggiornati in tempo reale su tutti quelli che sono i nuovi video che inserirò in questo canale, attivate anche le notifiche. Il mio obiettivo con questi video è quello di darvi spunti interessanti per cercare di aiutare il maggior numero di persone a comprendere questo mercato e a poter investire al suo interno. All'interno di questo video porremo queste domande ad un'esperta che potrà illustrarci e potrà darci una propria visione su quello che accadrà nei prossimi mesi, soprattutto come possiamo utilizzare al meglio alcuni strumenti molto semplici per poter imparare a fare trading immobiliare, soprattutto. Innanzitutto, dal mio punto di vista, il mercato immobiliare, a seguito di quello che stiamo vivendo in questo momento, almeno per i prossimi sei mesi, io credo anche un anno, sicuramente subirà un calo, un piccolo crollo di almeno il 10% su tutti quelli che sono attualmente i prezzi in vigore, perché il mercato è salito di anno in anno ormai per quasi 8-10 anni e quindi adesso subirà una leggera flessione che andrà ad abbassare i prezzi non solo nel mondo delle compravendite, ma anche per quanto riguarda il mercato degli affitti. Ci sarà un crollo netto, ancora più rispetto a prima, per quanto riguarda gli immobili prettamente commerciali, quindi generalmente la nostra era ormai si sta spingendo sempre di più su quello che è internet, soprattutto per quanto riguarda i negozi, quindi per quello che è lo shopping. E i locali commerciali ad oggi, prima di quella che è l'inizio di questa crisi, che era l'inizio di questa crisi, già avevano subito un crollo abbastanza netto e importante. Adesso, a seguito di quello che sta accadendo con questa bolla finanziaria e il crollo del mercato, che ci sarà sicuramente per quanto riguarda l'immobiliare, i locali commerciali avranno ancora di più una forte flessione, non so e non posso quantificare qual è la flessione che subiranno successivamente a questo momento, però sicuramente moltissime attività, io credo e stimo che un 30-40% delle attività commerciali non riuscirà a superare nei prossimi sei mesi questa forte crisi, questo forte impatto sull'economia che questa tragedia in questo momento che stiamo vivendo, quindi in questo 2020, purtroppo ci ha portato a dover affrontare in maniera improvvisa, possiamo dire. Quindi chiunque possiede dei locali commerciali o vuole investire in locali commerciali, lo deve fare, secondo me, con un'ottica di riconversione, cioè qualora non si riuscisse a sbloccare quello che è un locale commerciale sull'aspetto dell'avvio di nuove attività, che come ho detto prima, hanno sempre un impatto inferiore rispetto a quello che è internet oggi, nonostante la gente ami toccare con mano, però è chiaro che un'attività commerciale oggi non può accogliere un cliente, sicuramente far toccare con mano quello che è un prodotto per poi vederselo soffiare sotto mano andando su internet, perché il cliente poi compra su internet per una serie di motivi, possono essere i prezzi, la velocità, le garanzie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la riconversione dei locali commerciali, secondo il mio punto di vista, oggi è molto importante. E quindi che cosa possono fare o potete fare se avete un locale commerciale? Potete sicuramente riconvertirli, se volete investire in questa tipologia di immobili, in spazi per uffici, per esempio uffici condivisi. Perché la condivisione oggi, soprattutto sfruttando degli spazi enormi, o degli spazi medio-grandi, per poter mettere al suo interno delle scrivanie, per poter far lavorare in maniera anche combinata, quindi così già come avviene con gli spazi condivisi e gli uffici condivisi, in molte zone d'Italia, devo dire, e nel mondo ovviamente, beh, questa sicuramente può essere un'ottima soluzione. Così come altre poi soluzioni, sempre in maniera condivisa. Perché sicuramente oggi mantenere un fitto di un'attività commerciale che porta via tantissime spese, non è la soluzione migliore, soprattutto per chi vuole ottimizzare i costi. E con lo smart working, e soprattutto con l'esperienza che molti stanno prendendo oggi, in maniera costretta, in maniera forzata, a dover rimanere a casa, beh, questo vedrete che prenderà davvero molto piede. Quindi adesso abbiamo in collegamento una professionista del settore immobiliare, con il quale collaboro, con il quale lavoro, che è Roberta Boni. Roberta Boni, secondo te, tanto benvenuta, secondo te come vedi la prospettiva nei prossimi sei mesi nel mercato immobiliare, visto che fai anche l'agente immobiliare, non solo nella tua zona, come lo vedi a livello italiano in questo momento e nei prossimi sei mesi? Ciao Alessandro. Innanzitutto, permettimi di ringraziarti per avermi invitata a partecipare a questa intervista. Tu mi chiedi come saranno i prossimi sei mesi, secondo me, per quello che riguarda il mercato immobiliare. Beh, ci vorrebbe la sfera di cristallo, perché il periodo che stiamo vivendo, e che spero ci lasceremo presto alle spalle, ha determinato una tale confusione, che diventa veramente difficile capire quale possa essere il trend del prossimo periodo. Certamente posso dirti che qualcosa cambierà. Principalmente cambierà l'approccio alla trattativa tutto tondo, a partire proprio dall'inizio, da quando, ad esempio, l'agente immobiliare, come io sono, incontra il cliente visitatore. Avremo le mascherine, avremo i guanti, non potremo stringerci la mano. Quindi deve proprio variare il nostro status comportamentale, e dovremo adattarci a una modalità che non ci appartiene. Quello che, secondo me, deve scaturire da questa esperienza, è che certamente dovremo ottimizzare i tempi. Di conseguenza diventerà molto importante il primo appuntamento, e diventerà sempre più importante cercare di capire il cliente prima, attraverso una profilazione, per esempio in ufficio. Per il resto, naturalmente, dovremo stare a vedere. Dobbiamo rimanere positivi, e dobbiamo capire che comunque il prossimo periodo sarà complicato, articolato per tutti quanti. Quali sono le armi vincenti che possiamo utilizzare se vogliamo fare trading? Quindi, per tutti voi che volete intraprendere un percorso nel mercato immobiliare, da qui in avanti dovete essere consapevoli che è vero che il mercato crollerà sensibilmente, ma la guerra dei prezzi non è sempre l'arma migliore. Ma abbiamo un'arma da giocare a nostro favore, da mostrare a quelli che sono i potenziali clienti, e si tratta dell'home staging. Quindi, Roberta, cosa ci dici a riguardo? Gli investitori, a mio modo di vedere, dovranno puntare ancora di più a dare valore al tempo che i visitatori concedono agli immobili che loro propongono. Quindi dovrà esserci maggior focus, maggiore attenzione alla promozione attraverso, ad esempio, video emozionali, attraverso fotografie professionali, attraverso testi che tengano conto di tutto l'aspetto multisensoriale. Credo che l'home staging in questa fase rivesta un ruolo fondamentale, poiché la prima impressione diventerà ancora più importante. La prima impressione, la buona prima impressione, è un punto cardine dell'home staging. Quindi sarà importante presentare bene gli immobili, sia dal punto di vista dell'inserzione pubblicitaria, sia naturalmente trovarsi allineati nel momento della visita. Quindi non sarà più possibile vedere immobili non preparati, vedere immobili mal presentati, poiché, come dicevamo prima, ci saranno sempre meno seconde e terze visite. Dovremo quindi cercare di fare in modo che la prima visita diventi veramente molto, molto efficace. Ricordiamo che Roberta è una professionista dell'home staging ed è anche agente immobiliare, come avete sentito. Ciao Alessandro, nel salutarti, lasciami dire che l'obiettivo di noi agenti immobiliari per il prossimo periodo sarà quello di far sentire sempre più a proprio agio i nostri clienti investitori, i nostri clienti visitatori e quindi potenziali acquirenti e metteremo a disposizione di tutti le nostre competenze per fare in modo che i prossimi momenti siano non come prima, ma migliori. Grazie, ti saluto. Ciao. L'home staging, così come le prospettive del mercato, sono ormai abbastanza quasi chiare, perché comunque dobbiamo aspettare ancora qualche altro, secondo me qualche altro mese, però è chiaro che la direzione ormai è quella e bisogna muoversi perché in questo momento il mercato offre un sacco di opportunità ed è sicuramente il momento migliore per poter investire nell'immobiliare, soprattutto sfruttando quello che è il mercato delle aste giudiziarie oppure il mercato degli stralci immobiliari. Quindi ora vi chiedo, voi cosa fareste se acquistaste un immobile oggi? Preferite metterlo a reddito oppure fare trading immobiliare, quindi compravendita, oppure vi piacerebbe comprarlo a sconto per mantenerlo come forma di proprietà, caso mai per andarci a vivere o un giorno oppure utilizzarlo per seconda casa e poi un giorno eventualmente donarlo ai vostri figli o a chi più pensate possa averne bisogno. E secondo voi l'home staging di quanto e perché aumenta o può aumentare il valore del vostro immobile, soprattutto se avete intenzione di fare trading, quindi compravendita, o anche proporlo a reddito, non in maniera immobiliata, ma arredarlo con l'home staging per dare una maggiore percezione di quello che può essere il valore dell'immobile. Scrivete nei commenti le vostre domande, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto condividete questo video con più persone possibili perché questo video e queste informazioni potrebbero aiutare numerose persone, quindi se mi aiutate a raggiungere il maggior numero di persone potremmo tutti quanti dare il nostro contributo. Attivate le notifiche in modo tale che poi possiate sempre rimanere aggiornati. Qui sotto trovate dei link utili per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda le informazioni e per scaricare del materiale gratuito.